Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui su Gran Turismo 4 per la PlayStation 2 e faremo insieme una gara su un circuito cittadino, l'unico che l'abbiamo ancora fatto, cioè che l'ho fatto vedere in un video. Siamo in Opera de Paris oppure Hong Kong, New York, Tokyo, special route, Cloudman Stage, circuito di Seattle, Seoul Central, ma noi andiamo a Opera de Paris, Opera de Paris, sentite macchina francese, no faccio schifo, voglio farla con un'auto, bene no, bene. La T-Ware? Tasca, ma no, ma anche no. Con una lancia? Lancia delta HF integrale, bestia, morbidissimi, squagliamo pure tutto, un'altra auto impossibile da guidare, però il zettone, delta HF integrale? Per Rally? Con lei che vinse molte volte, molte molte. Vabbè, guardate la nostra che cerca già di superare prima della partenza. Come sempre, mostro prima l'auto dall'esterno. E adesso iniziamo a guidare sul sedio. Ok. Spero di vincere, ok. Eh, ci chiude la strada. All'interno ci prova. Si capisce più niente. Non so più da dove passare. Ah, mi butta fuori sto capra. Sto capra. Ascorda, scusa bello. No, devo passare io, non te. Dai su, dai deltone, dai deltone. Dai su. No, non cerca adesso il passo. Guardate, li superiamo tutti. Siamo terzi. Ecco voglio una staccata da panico. Ma che è sto furgoncino? Ma che cos'è sto furgoncino? Non l'avevo mai visto. Addirittura i furgoni della Dakar. Almeno penso sia della Dakar. All'esterno? No, perché non si vede. Non è anche in Formula 1. Dov'è? Una delle poche gare che siamo primi. Stava veramente a staggolta quello là. Il deltone c'ha un'aderenza paurosa. Senza frenare. Cioè non l'ho mai fatta sicuro senza frenare. Ciò vuol dire che sta a autonavesti. Perché? Perché è italiana. Ovviamente. E nessuno ci talona tutti. Sì, basta non fermarsi in mezzo alle burro. Ops. Sta arrivato il furgoncino dei gelati. Ci vuole seguire per darci un gelato. Ma noi non lo vogliamo perché siamo a dieta. Sto provoca però a farla senza frenare. Murettino lo superiamo indegno. Frenata. E ultima curva prima del traguardo. No, non è vero. Eccola qua l'ultima curva. E andiamo a vincere. Grandissimi. 300 cavalli. Sono l'alcio. Qui ci sta anche un'altra garetta. Sempre cittadino, dai. Perché come metterlo sull'estero facciamo un pochino schifosino. Soprattutto sullo sterrato. Soprattutto sull'estero. Con un'anissima, dai. Ma io questa che è più bassa. Due morbide. Morbidissime. Può essere che questo video si interrompa bruscamente. Ma fa niente. Ovviamente se non riesco a dirvelo. Iscrivetevi. Commentate. Mettete mi piace. Dai che siamo un po' a carenza di iscritti e visualizzazioni. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma la gente lo apprezza abbastanza. Noi possiamo soltanto fare video. Game set. Ci chiamiamo. Qualcuno dice Eh ma un game set. Non fate i giochi sul cellulare. Noi registriamo almeno col cellulare. Non c'è qualcosa, dai. Poi i giochi col cellulare arrivano sempre. All'esterno. Prima grande sorpasso. Mi sembra che è molto veloce sta l'auto. Non è notato dalla conformazione della pista. È una pista molto... Dai lasciami passare. No, dai lasciami passare. Molto ambigua sta pista. Ora non mi ha lasciato passare. Ho avuto la curva. Mi stupì subito e ne approfitta. Ma noi non chiudiamo. Sportellate. Scusi signore ma... Non siamo più forti. Ed eccoci sul grande rettilineo. Prendiamo la scia. 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 Scia a bomba. E lo superiamo. L'Alfa Romeo. Sì. E puntiamo verso gli altri due. Non so. Oh. Spirano un muretto. Questo che è l'ultimo carico che facciamo oggi. Ma... Ma niente. Arriveranno sempre nuovi video. Non vi preoccupate. Intanto voglio vincere però sta gara dai. Almeno secondi. No neanche i secondi. Vabbè. Terzi. Sempliciotti. Non sa parte né parte. No senza... Vabbè chi se ne tre gli avete capito come volevo dire. Siamo arrivati i terzi a 5 secondi di start. Tantissimo. 6 secondi e mezzo. Pensavo di meno. Vabbè non potremmo vincere la staggara. Con la Nissan Beninzioil. Quindi. Ragazzi. Ci salutiamo. Ci vediamo a un prossimo video. Su un cellulare. Sulla Wii. Sul computer. Sul DS. Sul PlayStation. Non si sa. Qui è tutto da GameStop 9700. Un saluto anche da M.A.Punto. Che c'è sempre nei vostri cuori. Mettete mi piace. Iscrivetevi. Come ho già detto. Ciao a tutti ragazzi. Ad un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.